Approvati i bilanci della Fondazione Sistema Toscana e di Toscana Promozione Turistica, il via libera con i voti della maggioranza. Procreazione assistita, approvata la mozione presentata da Italia Viva, il sì all'unanimità del Consiglio regionale. Buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. Con 20 voti favorevoli e 16 contrari, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il bilancio di esercizio della Fondazione Sistema Toscana. Contestualmente all'approvazione è stata indicata la necessità di specificare nel programma di attività, gli investimenti da realizzare e la quantificazione delle risorse. La Fondazione lo ricordiamo allo scopo di promuovere il sistema territoriale toscano con strumenti di comunicazione nell'ambito del web 2.0 e della comunicazione digitale. Sentiamo le interviste. Sì, un'approvazione diciamo un po' tormentata, molto contestata. In realtà l'unica pecca che ha è di essere un'approvazione tardiva perché era il bilancio del 2020 che ha avuto alcune vicende che hanno richiesto approfondimenti, ma ad oggi il bilancio è, prima cosa, un bilancio inutile della Fondazione che quindi è un saldo positivo, è un bilancio che ha ricevuto alla fine tutte le approvazioni degli enti di controllo, gli organismi di controllo interni ed esterni ed è un bilancio che ha consentito di verificare per l'ennesima volta come questa fondazione sia un organismo indispensabile per le attività dell'ente regione toscana sui fronti della promozione turistica nelle sue connessioni con la promozione e il sostegno all'offerta culturale. Cioè si occupa di quella settore di cerniera che consente di trasformare la nostra identità culturale, il nostro patrimonio culturale in motori, generatori di offerta turistica e quindi di economie anche nel campo turistico oltre che nel campo della cultura. È stata anche l'occasione per analizzare temi più generali che riguardano il rapporto con i dipendenti e gli ex dipendenti e gli incarichi ad essi riconoscibili che però ha avuto come esito quello di essere ricondotta nell'alvio della prima commissione per una discussione più generale e quindi il bilancio è stato approvato con soddisfazione a maggioranza e ci porta adesso ad attendere i bilanci preventivi per le attività del 2022 della Fondazione Sistema Toscana. Il nostro voto è stato negativo. Infatti è emblematico che oggi marzo 2022 si voti l'approvazione del bilancio di Fondazione Sistema Toscana del 2020. Ci sono state varie problematiche, infatti già a settembre sono state chieste integrazioni e modifiche che poi sono arrivate a gennaio, diciamo che è stato detto che le cose andavano bene. Abbiamo votato in commissione qualche giorno fa, è passato a maggioranza. Noi diciamo cosa c'è che non va in Fondazione Sistema Toscana, qualcosa c'è che non funziona. Lo dicevamo anche negli altri anni, va avanti con il 90% di soldi regionali, quindi è giunto il momento di fare una riflessione su questa fondazione e anche su Toscana Promozione, perché per certi versi si assomigliano e quindi secondo noi forse ci vorrebbe un'unica regia. Nel marzo del 2022 ci siamo ritrovati a votare il bilancio 2020 della Fondazione Sistema Toscana che è una fondazione partecipata all'83% dalla regione toscana, quindi una fondazione quasi esclusiva proprietà della regione. Questo ci ha un po' insospettiti, siamo andati a spulciare, a controllare come mai nel 2020 il bilancio dal 2020 arrivi oggi e ci siamo accorti che quel bilancio intanto ha due pareri negativi ricevuti dalla direzione bilancio della regione. Non solo, guardando i bilanci ci siamo accorti per esempio che nel 2017, nonostante la regione abbia stanziato 5 milioni e 200 mila euro di denaro pubblico a Fondazione Sistema Toscana, ne sono serviti un ulteriore 620 mila per colmare un buco di bilancio. La Fondazione Sistema Toscana è la fondazione che deve promuovere la cultura, il turismo e l'integrazione in Toscana, quindi un qualcosa di surreale, cioè che la fondazione che deve promuovere la cultura e il turismo, del luogo che forse ha più cultura e storia, tradizione e attrazione turistica del mondo, perda 600 mila euro all'anno. Io mi auspicavo quantomeno di fronte a questa gestione, a questa mala gestione, che il direttore generale della fondazione fosse stato rimosso e ci siamo accorti del vero problema, della vera anomalia. Cioè Fondazione Sistema Toscana ha avuto per 17 anni lo stesso direttore generale, un signore che ha percepito 115 mila euro di stipendio all'anno per fare male il proprio lavoro e dopo 17 anni ha finito di fare il direttore generale della fondazione solamente perché è andato in pensione. E un minuto dopo che è andato in pensione il Consiglio regionale lo ha nominato nella deputazione di Montepaschi di Siena, cioè gli ha dato un'altra nomina. Già questo basterebbe secondo me a far attenzionare questa situazione. Non è tutto, c'è di più. Evidentemente lo stipendio che si prende in deputazione del Montepaschi di Siena e la pensione che ora questo signore percepisce sono ben lontani dai 115 mila euro che percepiva quando era direttore di Fondazione Sistema Toscana e allora Fondazione Sistema Toscana in affidamento diretto gli dà una consulenza da 50 mila euro. Un bonus. Perché evidentemente è stato bravo a gestire male 17 anni una fondazione e viene dato un bonus, è largito un premio in questa situazione storica, in questa contingenza storica, un premio di 50 mila euro. È una roba vergognosa, è una roba che è di una inopportunità politica senza precedenti e io ho dei dubbi che sia soltanto inopportunità politica, che non ci sia anche altro. Non tocca a me indagare su questo, lo faranno gli organi competenti, ma io segnalo che mi sembra veramente assurdo che una fondazione di proprietà interamente della regione toscana regali, assegni una consulenza in maniera diretta senza passare da nessun tipo di concorso a chi è stato direttore generale per 17 anni della stessa fondazione. Per me è surreale. Più che le polemiche sui tempi il mio è stato un intervento proprio nel merito dei numeri perché qui ci sono poste che non tornano, sono interventi tecnici i miei, ho cercato di spiegare all'aula che il credito IVA non può essere portato a fondo rischi perché è una partita di giro il cui debitore è lo Stato, quindi più garantito di così non può essere un credito e quindi se viene portato a un fondo rischi vuol dire che c'è un problema e leggendo il bilancio mi sono accorta che l'Agenzia delle Entrate già nel 2017 ha dichiarato questo credito IVA inesistente, quindi è stato fatto un errore ed è specificato proprio nella relazione a pagina 74, chi vuole andare a vederlo lo può vedere, che è stata considerata detraibile l'IVA su spese di missione. Le spese di missione sono spese di viaggio, ristoranti e hotel, esiste una legge dello Stato che dice che l'IVA su queste spese è indetraibile, ora mi domando come una fondazione possa fare un errore simile, questo è stato appurato nel 2017, tutt'oggi questo credito IVA è in bilancio, quindi vorrei capire quando verrà portato a perdita e verrà sicuramente sistemato il bilancio, ma non solo, questa fondazione è una duplicazione di un altro organismo come Toscana Promozione e Sviluppo, hanno praticamente le stesse finalità, si discostano leggermente, però le risorse che impiegano sono ingenti, si parla di 10 milioni di euro l'una e 9 milioni di euro l'altra, fondazione Sviluppo Toscana è finanziata per l'87% dalla regione Toscana, quindi sono soldi pubblici che in questo momento di crisi potrebbero essere dirottati su aiuti a favore delle famiglie che non riescono ad arrivare in fondo al mese, alle imprese che si trovano di fronte ai maggiori costi per l'energia elettrica, quindi non capisco come mai non si arrivi a una razionalizzazione delle risorse e anzi si usino queste fondazioni un po' come dei meccanismi per creare lavoro, non solo ai 71 dipendenti, ma anche a consulenti esterni, perché la fondazione ha ben 4 milioni e 600 mila euro di consulenze che non vengono nemmeno specificate nella relazione, per questo ho fatto una specifica richiesta di accesso agli atti perché voglio avere i dettagli di dove sono andati a finire quei 4 milioni e 600 mila che non si sono verificati soltanto nel 2020 ma anche gli anni precedenti, quindi qui c'è un problema di gestione non di dipendenti perché i dipendenti eseguono essenzialmente il lavoro che gli viene richiesto, quindi il problema è la gestione, come dicevano anche altri colleghi in aula, non si capisce perché in 17 anni è stato mantenuto sempre lo stesso dirigente. Seduta dedicata all'approvazione dei bilanci perché è stato approvato dal Consiglio regionale anche il bilancio di previsione 2022 di Toscana Promozione Turistica. Il via libera all'atto illustrato da Mario Puppa, consigliere del PD, è arrivato con 20 voti favorevoli e 14 contrari. L'agenzia, lo ricordiamo, svolge attività di promozione turistica attraverso l'organizzazione diretta di iniziativa e la partecipazione a progetti di promozione anche di altri soggetti pubblici, anche in questo caso le interviste. Il Consiglio ha approvato il parere sul bilancio di previsione di Toscana Promozione Turistica che è un'agenzia di fondamentale importanza soprattutto in questo momento di ripartenza perché veniamo da due anni di Covid che hanno messo in ginocchio il nostro sistema turistico. È un bilancio che logicamente è ancora di transizione che porta 10 milioni in dote appunto per trovare stimoli e progetti per il rilancio di un settore che è fondamentale per tutti noi. Ma Toscana Promozione è un ente pagato profumatamente dalla regione toscana che si occupa di promuovere il turismo per quanto la regione toscana. È paragonabile al ministro del petrolio per i paesi arabi perché evidentemente il nostro petrolio è il turismo. Noi abbiamo un giacimento petrolifero non in ogni città, non in ogni comune, ma in ogni borgo, in ogni piazza. Ecco, pensiamo che Toscana Promozione faccia molto male il proprio lavoro, che ci sarebbe da poter avere un intervento molto più efficace, molto più importante. Per questo abbiamo votato convintamente contro a quel bilancio, così come abbiamo votato contro al bilancio dell'Agenzia regionale Toscana per l'impiego. Ma soprattutto noi siamo rimasti profondamente delusi dall'assenza di dibattito in aula. Oggi in aula è venuto il bilancio di Toscana Promozione, quindi del Ministero del Petrolio per quanto riguarda la nostra regione e dell'Agenzia che si occupa di impiego in un momento in cui il problema più grave che si chiede a un bambino di quinto elementare o a un pensionato è il lavoro. Ecco, non possono passare così in maniera superficiale dal Consiglio regionale senza un dibattito importante, senza una riflessione importante sul ruolo di queste due entità che in questo momento dovrebbero essere due dei pilastri su cui appunto la nostra regione si fonda. Adesso sentiamo la consigliera regionale del gruppo misto Elisa Tozzi che ci parla dei due bilanci approvati e anche di un terzo bilancio che è stato licenziato dal Consiglio regionale, quello preventivo dell'Arti, l'Agenzia regionale per l'impiego. Sentiamo. Ma sicuramente su questo fronte siamo estremamente critici, siamo estremamente critici sia da un punto di vista di reale opportunità e anche di efficacia di tenere insieme alcune situazioni. Ci riferiamo in particolare a Toscana Promozione ma potremmo anche parlare di Arti. Diciamo che nel dibattito consigliare e soprattutto in quelle che sono un po' le finalità di queste di queste agenzie noi non troviamo risposte effettive rispetto alla missione per cui sono state istituite. Particolari criticità poi riguardano Fondazione Sistema Toscana. In realtà ci stiamo tutti quanti interrogando su quelle che sono appunto le prospettive anche e soprattutto direi le capacità di governance di queste situazioni. Lo abbiamo detto anche ieri nella scorsa seduta da un lato si interviene come dire a voler cumulare anche i compensi e le cariche dall'altro però non si vuole assolutamente affrontare la questione delle criticità gestionali. Se le società partecipate continuano ad essere gestite nella sola ottica come dire di occupazione di posti e di moltiplicazione di poltrone questa è una logica che noi non possiamo accettare. C'è un grande lavoro da fare che è quello di prendere sul serio un piano di razionalizzazione che è quello di evitare di continuare a propinare annunci dove si moltiplicano le società partecipate che sembrano quasi la panacea della risoluzione dei problemi della Toscana quando in realtà ciò che emerge oggi è che nessuno pare essersi occupato quantomeno negli ultimi dieci anni della reale funzione di questo tipo di strumenti e di quanto si possa realmente incidere sulle politiche che intendono perseguire invece di come dire essere solo delle macchine che continuano a mangiare soldi pubblici. Su questo naturalmente c'è un grande lavoro da fare che come opposizione non ci sottraremo certo a portare avanti. Chiudiamo la pagina dedicata ai bilanci e in chiusura occupiamoci di un altro argomento promuovere e valorizzare la procreazione medicalmente assistita, un diritto che deve essere garantito. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal gruppo di Italia Viva che impegna la Giunta a sostenere il desiderio di genitorialità. Sentiamo il capogruppo di Italia Viva Stefano Scaramelli. La PMA è la procreazione medicalmente assistita. Oggi il tema della denatalità è un grande problema sociale. Ho avuto il coraggio di aprire il tabù di questa discussione in Consiglio regionale e ringrazio i colleghi per aver votato all'unanimità questo atto. Il tema dell'infertilità, il tema della impossibilità di portare avanti una gravidanza, il tema del cambiamento degli stili di vita, il tema forte che c'è sul fatto che la denatalità sta producendo un impoverimento della società. Se non nascono i bambini è un tema che tra un po' di anni ci si presenterà, proprio anche in termini sociali e collettivi. Abbiamo portato delle misure e proposto al Consiglio di impegnare la Giunta rispetto ai riconoscimenti di LEA, rispetto alle questioni di carattere ambulatoriale o a questioni di carattere di ricovero, rispetto al tema delle attività convenzionate, dell'equilibrio tra centri pubblici e privati, temi del personale. Tante sono le questioni che oggi impediscono, penso anche alla pubblicizzazione, anche alla sensibilizzazione di temi così importanti per consentire alle persone di maturare quello che è un diritto di carattere individuale, in particolar modo alle donne di portare avanti le gravidanze. Il tema dell'infertilità si lega anche molto alle questioni degli stili di vita, quindi serve informazione, serve promozione, serve affrontare il tema del tabù della donazione, ma soprattutto serve consentire e favorire quella che è una procreazione che può aiutare tante donne e tanti uomini in Toscana. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, grazie per l'attenzione e buona grazie a tutti. Grazie a tutti.